Tu non hai famiglia, non hai nessun amico, sei stata abusata finché non ti sei consegnata a me. Ora hai uno scopo ed è nobile. Sarà tutto diverso stavolta. Tu ha gente sul campo fa quello che ritieni sia meglio. Devo essere sicura. Se riuscisse a stabilire un contatto con l'obiettivo, quali sarebbero le direttive? Neutralizzarlo. Signor Presidente, abbiamo un problema, dobbiamo intervenire subito. Ci siamo vicini? Più di quanto lo siamo mai stati. Pronta a giocare fuori dalle linee? Sono pronta a fare il mio lavoro. Se la tua copertura salta non c'è salvezza, devi salvarti da sola. Siate silenziosi e siate puliti. Non punzecchiare troppo l'orso, ho l'obiettivo di entrare tu. La risorsa è infiltrata, la missione è in corso. Non si può fermare adesso. Se la sicurezza lo scopre, finirà in televisione. Hai colpito l'obiettivo! Non sono addestrata per questo. Noi abbiamo fatto il danno, noi puliamo. Come facciamo a chiudere tutto? Ho bisogno che tu capisca i rischi. Io capisco i rischi.